Con CamPilot, Klaas ha lanciato un'innovazione sul mercato, un sistema di guida automatica per la raccolta delle andane con un pick-up. Il CamPilot è una telecamera che assiste l'operatore. Si tratta di due lenti ottiche che rilevano l'andana da una distanza approssimativa di 10 metri davanti alla trincia. Il sistema riconosce l'andana in base alla larghezza e all'altezza e la macchina viene guidata lungo le due linee virtuali e parallele ai lati dell'andana. Quando la Jaguar è in modalità campo, il CamPilot si attiva sulla leva d'avanzamento. Per disattivarlo basta un semplice movimento di sterzata del volante. Grazie alla tecnologia delle valvole proporzionali si possono raggiungere velocità fino a 15 km orari. Quando il CamPilot riconosce che l'andana non si trova più esattamente in posizione tra le due linee virtuali, il sistema reagisce automaticamente calcolando ed applicando un corrispondente movimento dello sterzo. Il CamPilot, così come il sistema Autofill, è un grande ausilio per l'operatore, soprattutto durante le lunghe giornate di lavoro della raccolta foraggio. È disponibile per tutti i nuovi modelli Jaguar della serie 800 e 900. Grazie. 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 Grazie.